Radio 00, Radio 00, suona ciò che ami, più suona e più la ami. Bellissima, incredibilmente bella. Mi piace moltissimo ricordare un'ultima quarta. Mi faccio il signore dei complimenti e mi dispiace che devo lasciare, perché devo dare un'opera più di un mio bambino. Quindi se noi iniziamo la prima partita alle 9, alle 9.40 ci sarà un primo intero perché ci sarà, stavo dimenticando, grazie ai 280 iscritti, ai 280 bambini. Quindi abbiamo pensato di far intervenire quando abbiamo dei tempi, un po' così. Tu hai già contato uno. Vado, mi ha chiesto, mi ha mantenuto con le mie roppe l'analisi. E l'ho reso un grande tono perché oltre che far capire quello che succede nel mondo ai miei genitori, lo faccio capire al resto della comunità solita. Sono interprete della lingua dei segni all'interno di canale Stato. Per i bambini, per tutti i bambini presenti allo Stato. E quindi questo è il punto di trattamento. Il problema e il dubbio che ci ha Tito è che... L'abbiamo presa subito perché questi ragazzi, per quello che ho capito, Tito Corregge, che loro donano dei tempi natori, per quello che ho capito, più o meno sarebbe questo l'intento. Quindi, oltre a questo, penso che faccio anche anche altri, magari fare dei corsi, oppure mi dicendo subito se puoi aiutare a... Radio 00, suona ciò che ami, più suona e più la ami.